Chiaramente per noi oggi è un giorno molto importante perché possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Abbiamo approvato un piano che ci consente di riportare Roma in Europa. Abbiamo appreso le migliori prassi, quelle che hanno funzionato, le portiamo a Roma per superare i campi. Iniziamo chiaramente con due campi che sono la barbuta e monachina e nel frattempo sugli altri campi saranno avviati dei progetti campo per campo insieme ai municipi e la cosa fondamentale è che le linee guida per il superamento dei campi rom che sono state approvate anche in Italia e che derivano appunto da una linea europea prevedono l'utilizzo di fondi europei. L'Italia ha avuto per anni a disposizione fondi europei che non ha mai utilizzato e ha continuato a spendere tra i 24 e i 30 milioni annui per mantenere in vita i campi. Noi andiamo a prendere le risorse europee e iniziamo col percorso di superamento che da anni Roma e l'Italia chiedevano. Ci siamo? Quindi chiaramente capite che siamo visibilmente soddisfatti. Grazie. Grazie.